Quella che stiamo per raccontarvi è una storia di pregiudizi alti come barriere che possiamo scredolare come cracker nella borsetta. Ed eccoli i nostri protagonisti Cristina e Stefano. L'amore soffocato ha la stessa crudeltà di un ballo interrotto perché il colpo di scena nel loro film era da evitare. Io seguirò questo migrate, seguirò questa corrente.